Un innesco vincente costituito da spaghetti slurp colore giallo fluo con glitter e camola del miele naturale. Quindi prendiamo un nostro slurp spaghetti, lo spezziamo di una lunghezza equivalente più o meno a quella di una camola, andiamo a infilarlo sul nostro amo, facciamo passare il nostro amo lungo tutto il corpo dello spaghetto, se così possiamo definirlo, lo tiriamo sul filo e inneschiamo poi la nostra camola ad L, uscendo qualche millimetro prima della coda. Ecco il nostro innesco pronto per andare a catturare.